Parliamo di sport e anche di inclusione perché la polisportiva Roccadaspide è tra le 11 società a livello nazionale ad aver partecipato ad un bando per l'acquisto di attrezzature per la boccia paralimpica. È stato predisposto un progetto con il coinvolgimento delle scuole del territorio, un progetto importante di cui parlo, o meglio, del quale mi faccio raccontare dalla vicepresidente della polisportiva Roccadaspide che è Marika Babbone. E allora, si parte con la boccia paralimpica, già un primo passo è stato fatto d'estate durante il summer camp, ma adesso è partito questo progetto importante. Sì, esatto, finalmente inizia questo progetto con la boccia paralimpica e abbiamo già fatto qualche giorno con i ragazzi ed è veramente un nuovo sport bellissimo, inclusione soprattutto. E' uno sport nuovo perché giustamente non tutti conoscono questo sport, quindi anche noi siamo i primi in campagna affiliati alla FIB, quindi alla boccia paralimpica. Abbiamo questo progetto appena iniziato. Tra l'altro coinvolge non soltanto persone di Roccadaspide, ma anche dei paesi vicini. Sì, esatto, perché diciamo che è molto inclusivo, quindi troviamo giustamente ragazzi non solo del territorio di Rocca, ma anche dei paesi vicini. Tra l'altro questo non è l'unico sport per persone che hanno una disabilità. c'è il sitting volley che tu stessa tra l'altro rappresenti egregiamente perché insomma sei stata notata e hai avuto esperienze anche a livello nazionale in questo sport. Voi insomma come polisportiva vi date da fare anche per quanto riguarda il sitting volley. Sì esatto, anche quest'anno io sono andata in prestito al Nola Città dei Gigli e è un altro sport appunto paralimpico che sta avendo veramente un grande successo. Quest'anno infatti poco tempo fa c'è stata la Coppa Italia dove noi ragazze ci siamo classificate come terzo posto e invece i ragazzi primo. E' uno sport bellissimo anche il sitting volley. Insomma tanti sport qui alla polisportiva Roccadaspide noi spesso insomma ne abbiamo parlato, lo abbiamo raccontato perché voi offrite tante opportunità ai giovani del territorio la pandemia ha un po' fermato tutto ma adesso insomma si riprende con sport di tutti i tipi. Sì esatto, ricominciamo proprio tra pochi giorni con l'over maschile quindi questo campionato misto che vede appunto ragazzi e ragazze. infatti a breve partirà quest'altro campionato e sì diciamo che questa pandemia ci ha un po' messi un po' giù però fortunatamente pian piano stiamo ripartendo con grandi progetti quindi anche la boccia con i bambini, con i ragazzi stiamo cercando comunque di fare nuovi progetti. Dunque Roccadaspide con la polisportiva si conferma eccellenza a livello regionale in particolare per quanto riguarda la boccia paralimpica e accanto a me c'è Giovanni Grippo che insomma ha un po' il ruolo di tutto fare tecnico naturalmente innanzitutto Giovanni un progetto importante che finalmente parte. Come si svilupperà? Allora innanzitutto grazie per questa intervista. Sì, noi siamo partiti con questa boccia paralimpica quest'anno in questa fase molto particolare del 2021 praticamente abbiamo vinto un ausilio nel 2021 con Sport e Salute per l'acquisto di due rampe per questi ragazzi ed è praticamente la boccia per i ragazzi che hanno maggiore difficoltà motore e per i ragazzi più gravi. Siamo partiti, abbiamo incominciato il sabato pomeriggio con le attività e quindi iniziamo con questo progetto. Siamo lieti di questa avventura perché siamo gli unici referenti di questa categoria attualmente in campagna e speriamo di essere anche promotori per far avvicinare altre società a questa realtà che è importante e dove possiamo dare la possibilità a tutti di poter partecipare. Dicevo in premessa che c'è anche il coinvolgimento della scuola. Sì, abbiamo vinto quest'anno un progetto con il CIP infatti del nazionale lo sport paralimpico va a scuola grazie al partenariato con la scuola ITC di Rocca d'Aspide e quindi voglio ringraziare la preside Rita Brinca per la disponibilità e niente, è partito questo progetto dove si svolge il sabato pomeriggio insieme all'attività degli allenamenti e quindi c'è anche una sorta di inclusione per questa attività. L'attività si deve essere svolta in cinque lezioni ma noi l'abbiamo prolungata per tutto l'anno per dare la possibilità a tutti di poter partecipare. Uno sport importante ma non è il solo perché come dicevo anche con Marica tante attività portate avanti qui alla polisportiva. Sì, abbiamo ripreso fortunatamente purtroppo il periodo è un po' particolare con il volley quindi cominceremo con l'over maschile il 19 dicembre con la prima partita di campionato e con le attività di mini volley che abbiamo sempre fatto. Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto una forte amministrazione dietro perché basta pensare che molte società sportive hanno iniziato a sbarra due settimane fa perché non avevano le strutture. Noi siamo fortunatissimi grazie all'attenzione del comune che ci ha dato una struttura in dotazione da poter usufruire e dare la possibilità a questi ragazzi e non è da poco. Quindi un ringraziamento che va da parte nostra come società ma soprattutto da tutti i genitori che partecipano. A tutte le attività della polisportiva Rocca d'Aspide si affianca il sostegno dell'amministrazione comunale retta da Gabriele Iuliano. Accanto a me c'è l'assessore allo sport Giuseppe Iuliano. Insomma è un progetto importante quello relativo alla borsa paralimpica ma davvero importante il lavoro che la polisportiva con il comune di Rocca d'Aspide sta facendo per il territorio. Si salve, buonasera. Io si parlo da qui da questo spettacolare palazzetto dello sport di Rocca d'Aspide dove avvengono tantissime attività sportive. Oggi parliamo un po' degli sport paralimpici. Sono degli sport fatti con delle persone che hanno delle disabilità dalle disabilità e ricordiamolo che già nel 1948 i retici della guerra mondiale già svolgevano queste discipline. Invece in Inghilterra. In Italia fu fatta la prima volta negli anni 60 e non veniva denominata non veniva chiamata paralimpica. E poi questi sport ci sono evoluti con varie discipline dal nuoto, la pallavolo che si chiama sitting volley mi suggeriva la mia amica Marika Babboni e poi nell'atletica e nella pallacanestro in carrozzina. Diciamo che quanto riguarda lo sitting volley voglio ricordare una nostra atleta del nostro comune e siamo onorati di averla come concittadina la grande Marika Babboni che gioca adesso nel Nola e che quest'anno ha svolto anche la Coppa Italia da poco tempo diciamo da pochi giorni è finita la Coppa Italia con il Nola e è andato benissimo e noi siamo contentissimi di questo. Poi per quanto riguarda la boccia paralimpica già ha parlato tutto il grande Giovanni Grippo presidente della polisportiva Roccadaspite e diciamo che siamo stati i primi in Campania ad avere le rampe e gli scivoli per gli atleti paralimpici. Insomma diciamo che il comune lo dicevo in prevessa è stato sempre vicino alle attività di questa società ma insomma ha sempre dimostrato grande attenzione per lo sport per l'inclusione tematiche insomma su cui comunque come amministrazione lei in particolare come assessore allo sport continuerete certamente a lavorare. Sì guarda io sono da due mesi che sono assessore allo sport al comune di Roccadaspite ma già prima anche in quanto non ero assessore al comune io ho sempre organizzato eventi e manifestazioni sportive per il mio paese. Adesso che sono assessore lo farò ancora di più anche se sono adesso in prima persona quindi ci daremo da fare sempre per lo sport perché lo sport è vita lo sport è unione stare insieme. L'unione fa la forza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.